Porterò questo hamburger da Los Angeles a Milano C'è un bel viaggio da fare Mettiamolo al sicuro Speriamo resista Ecco l'Uber Oh no 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 Ha fatto i biglietti ed è pronto a partire Breve, mi è caduto Olè, controlli superati Finalmente Ma perché? Sespo mi dice sempre che Shake Shack è il suo fast food preferito Ma in Italia non esiste Quindi ho deciso di fargli questa sorpresa Bene Dopo 24 ore di viaggio Si va da Sespo Ci siamo Sorpresa Non ci posso credere Sì, il tuo hamburger preferito Vediamo com'è È intattissimo Preciso Buon appetito È buono? È iniziato